Anche quell'erbazzone non mi fa impazzire. No, cioè, sono buoni, ma se uno ha la gastrite come me, non sono leggeri, non sono leggeri. Bravo, bravo, bravo. Questa è Nutella? Qual è la cosa per cui voi impazzite? Voi i pancironi di tutte queste, i cannellini che non ci sono. Questa qua si chiama, mi aiuti, pesca, no? Ma è solo a forno. L'ultima cosa, l'ultima cosa, se io fossi stato qua nel 1959 non c'era neanche lei ovviamente. Come era molto diverso anche il colpo d'occhio, tutto? Ma eravate già qua, sì? Vabbè, sì. Ma l'idea, cioè questo... Il dolce. E il salato? Sì, e il salato? Sì, ma era molto diverso, sì. Sì, come questo tipo di del... Nel 2050 come sarà il tutto? Da voi. No, no, da voi dico. Secondo me il piatto di lino è l'aranno per la magia di sfida. Mi ha già cominciato con il mazzurro. Mi dice l'anno, l'anno più di... Sì, ma... Sì... Sì, ma...